Anna Maria Picillo, direttore artistico della Rassegna Avellino letteraria e la scrittrice Mirella Napodano nel Salotto Culturale di Casa Sanremo Writers 2023, diventato da diversi anni una preziosa occasione per autori e case editrici e che vede nella settimana del Festival di Sanremo un alternarsi di presentazione di libri e incontri con gli autori. Una vetrina importante, una nota di orgoglio per la città di Avellino, quale momento di conoscenza, valorizzazione e arricchimento umano e culturale. Una bella e importante avventura, ha affermato Anna Maria Picillo, che da due anni con Avellino letteraria ha dato spazio a Villamendola a tante pubblicazioni degne di essere conosciute oltre capoluogo irpino. Tanta emozione ma anche soddisfazione per Mirella Napodano, che a Casa Sanremo Writers 2023 ha presentato il suo romanzo Ma l'amore no, romanzo epistolare per la memoria delle emozioni edizioni Delta III, dove ricostruisce la storia d'amore tra i suoi genitori. Un omaggio alla propria famiglia, uno spaccato di vita dell'Avellino d'inizio novecento, un bouquet di epistole attraverso il quale l'autrice fa rivivere la storia d'amore tra il padre e la madre. Una storia nella quale ritroviamo la città di Avellino di un tempo, con i suoi simboli, luoghi che cadenzavano la quotidianità.